Ciao ragazzi Nuovo video ASMR Ghibli Ghibli tag challenge Dovrebbe essere una challenge Non mi ricordo Allora Question tag challenge Allora questo video Tag lo faccio perchè Mi ha taggato Luca ASMR Ciao Luca E Sono tutta rosa Mi interessa Anche il rossetto E questo qui Per i ragazzi non interessa Ma alle ragazze interessa Ancora il Gulling 01 Della Essence Il rossetto Scusate i capelli Scusate la videocamera Uso molto spesso il microfono Ma Non sempre perchè Molti di voi mi hanno detto Che preferiscono La videocamera Il microfono della videocamera E quindi io uso il microfono Della videocamera E uso anche la videocamera Ma comunque anche altri Mi hanno detto Che Adorano il microfono Il suono del microfono E quindi uso un po' uno E un po' l'altro Sia il microfono E sia i video Con la videocamera I video che non faccio Con la videocamera Ma dove uso il microfono Li faccio col computer E quindi sentite Un brutto fruscio Ma non è Colpa mia Non so come risolverlo Quel fruscio Non so anche come toglierlo Sinceramente Quindi Scusate Abbiate pazienza Scusate Scusate che i rumori Ma non posso ammazzarmi I vicini E scusate se Guarderò in giro Perché c'è il sole Quindi un po' di cose che vuole Non c'ho paura Vabbè Allora C'è un peluche Qui dietro Ho finito con le scuse Questo è il mio peluche Non ci sta neanche dentro La videocamera Guardate che bello Col gravattino Bello Bellissimo E farà il video insieme a noi oggi Ciao Ok Peluche Che non sta in piedi Iniziamo questo video tag Perché ci sono un sacco di domande Grazie Luca Che mi hai taggato E Come mio solito Parlerò sempre tanto Sono l'ecoloica Quindi mi perdo Divago Mi dilungo troppo Iniziamo subito Sono praticamente 24 domande Ci mettono due ore Praticamente Aiuto Comunque mi fa piacere Che Luca Mi abbia taggato In questo video Perché io Adoro parlare Adoro fare i video tag Quindi grazie Vi lascio il link Di Luca Asmr Giù nell'info box Così andate a seguirlo Se non lo seguite Perché merita Veramente tanto Bravissimo Bell Oltre che professionale Anche nei video che fa Con gli sfondi Il green screen Eccetera eccetera Ciao Luca Basta Troppi complimenti Prima domanda Quando è stata La prima volta Che hai provato La ASMR Allora Non voglio rispondere Come Luca Però a scuola Anch'io L'ho provato Per la prima volta Perché C'era un insegnante Di Di matematica Io avevo Dei problemi In matematica Che non sapevo Neanche fare 2 più 2 Sono proprio ignorante Così mi conoscete Anche meglio E non mi prendete In giro però E quindi avevo Diciamo un aiuto Un sostegno Un conforto Chiamatelo come volete E avevo Questo insegnante Di vicino Che mi aiutava A fare i calcoli Senza calcolatrice Perché io con le dita Non so calcolare Non so fare 12 diviso 8 Con le dita Lo devo fare Con la calcolatrice Sono ignorante Ma vabbè Non mi insultate E quindi Mi insegnava Questa Appunto Questa professoressa Questa insegnante A fare i calcoli Così Magari scritti Su un foglio Ma non con la calcolatrice O li faceva lei Con la calcolatrice Ma io dovevo usare La testa Per calcolare E questa persona qui Aveva Una Una voce Relasantissima Io non pensavo Che questa Che questi breviti Che mi provocava A sentire A questa insegnante Fossero ASMR Fosse In breve L'ASMR Invece poi L'ho scoperto E ho detto Caspita Bellissimo Mi rilassavo proprio A sentirla parlare Anche senza farmi fare I calcoli Serena Devi fare così 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 E io ero lì A sentire Ah che meraviglia Quasi con gli occhi chiusi Mi veniva voglia di dormire Stupendo E da lì Pian piano Poi anche Grazie a Youtube Ho scoperto L'ASMR Ho scoperto I video ASMR E da lì Mi si è aperto Il mondo Mi si è aperto Un mondo Meraviglioso Dove Praticamente Adesso Non riesco più A vivere Senza Praticamente Non riesco più A vivere Senza vedere Almeno uno o due Video ASMR Per dormire O prima di dormire Anche di giorno Li guardo Ma Sono pericolosi Di giorno Perché Non riesco Poi a fare Più niente Mi addormento Quindi Meglio di notte Poi Allora Quando è stata La prima volta Che hai guardato Un video ASMR Su Youtube Allora Io andavo a scuola Fino ai 20 anni Poi a 21 Mi sono sposata Quindi Ok Mi sono sposata Giovani Però va bene così Ho provato La ASMR Tre anni fa O due o tre anni fa Non mi ricordo La data esatta Non me la sono scritta Però comunque Grazie a Alessia White Chocolate ASMR Mi sono Innamorata Della ASMR Seguitela Perché è bravissima Alessia Relaxing ASMR Adesso si chiama così È bravissima Veramente bravissima Cioè stupenda Fa dei video Rilassantissimi Meravigliosi Giavale E quindi Grazie a lei Ho scoperto La ASMR Poi vabbè C'è anche Daisy Magic ASMR C'è Chiara ASMR Ce ne sono tante altre Però Grazie a lei Sono riuscita A dormire di notte Perché facevo Un po' fatica A dormire di notte Io ultimamente Negli ultimi anni Ho fatto un po' fatica Ad addormentarmi E quindi Guardando video Su Youtube Nella home Mi ha aperto Questo video Mi ha dato Questo video Di Alessia L'ho aperto E da lì E da lì Sono stata pazza Di felicità E mi sono anche Rilassata Da morire Perché la ASMR Fatto bene È rilassante Non tutti lo sanno Pare bene Però alcuni Sono rilassanti Tipo Alessia Qual è il tuo video ASMR Non intenzionale preferito Allora Non ci sono video Non intenzionali Nel senso che Io se Voglio fare un video ASMR So Che è un video ASMR E so che lo voglio fare Non faccio video ASMR Non programmati Diciamo così Quindi Diciamo che Comunque Tutti i miei video ASMR Video tag Sono i miei preferiti Perché io adoro parlare Quindi Potrei rispondere così Allora Nomina Gli ultimi 5 ASMR Artist Che hai guardato Bisognerebbe andare a vedere Sulla cronologia Dei video Ma A parte Alessia ASMR channel A parte Alessia relaxing ASMR O White chocolate ASMR Sono due Alessia Due ragazzi Con lo stesso nome Alessia E Luca ASMR Che ultimamente Fa video Molto spesso E che mi piace vedere Quindi Lo guardo A parte Loro Loro due Loro tre Perché Due Alessia E un Luca Quindi sono già tre Gli altri Allora 5 Ne mancano due Le note del silenzio Carlotta E Monica A rasule ASMR Mitiche Tutte quante E anche Luca Ovviamente Poi Passano le macchine Non ci posso fare niente La vicina che pulisce Ok Qual è il tuo trigger ASMR Preferito Da ascoltare Da ascoltare Allora Il trigger Preferito Per me Da ascoltare Ce ne sono tanti A parte Il whispering Così come sto parlando io Che mi piace tantissimo E mi fa rilassare un sacco Mi piace anche Il suono dell'acqua Quindi magari Le bottigliette Dell'acqua profumata Che si muove Fa un bel suono Un bel movimento Oppure Mi piace Vabbè L'acqua versata Da una brocca All'altra Da una caraffa A una tazza A una ciotola A un bicchiere Eccetera eccetera Tipo quando faccio la tisana Mi piace Il corcoglio dell'acqua Anche quando faccio la doccia Quando mi lavo le mani L'acqua in generale Anche le cascate I laghetti I fiumi Il mare Il suono del mare Mi piace tanto E poi mi piace Il tapping Da ascoltare Che sarebbe questo Per chi non lo sa Farò un altro video ASMR Sul tapping Perché me l'ha richiesto Una ragazza Adesso non mi ricordo Come ti chiami Perdonami Però comunque Me l'ha richiesto Mi sembra Anna Mi sembra Non lo so Non ho tutti i nomi I vostri scritti Quindi non mi ricordo Siete tantissimi Perdonatemi se magari Sbaglio i nomi Comunque Farò un altro video ASMR Sul tapping Perché me l'avete richiesto E quindi lo faccio Arriverà Anche se ne ho tanti di video Ancora da caricare L'ho registrato Di mesi fa A parte questo Che lo sto registrando oggi In diretta Praticamente Poi Andiamo avanti Allora Sesta domanda Qual è il trigger Che ti piace meno Ascoltare Fallo Allora 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 I mouth sounds Non mi piacciono Quindi questi Ma li faccio lo stesso Perché voi me li richiedete Poi anche Gli Inaudible Quindi Parlare Mi sembro una pazza Quando faccio questi video Perché non capite Secondo me Cosa dico A parte se non leggete L'aviale Se io sto così Cosa avete capito Mi sembro una pazza Non mi piace di solito Vedere video ASMR Inaudible Perché mi piace Ascoltare E capire Cosa dicono le persone Che guardo Invece Non mi piace Non ascoltare Non capire niente Di quello che dicono Quindi non mi fanno Impazzire questi video E li ho appena fatti A voi piacciono A voi piacciono Ne a un tipo Ma a me non piacciono Scusate Li faccio lo stesso Ma per voi Perché per me Non li farei Forse per me Non li farei Però Va bene lo stesso Vi accontento Poi andiamo avanti Qui c'ho 11 minuti Aiuto Che ci metto un sacco Poi a caricarli Andiamo avanti A caricarli Usi la smr Per rilassarti E addormentarti Certo che si L'ho anche detto prima Certo che si Tutte le notti Guardi i video smr Adoro Allora Qual è la tua Bedtime routine Allora Pijama Doposcena Pijama Relax TV Alle 11 Mi metto già Nel letto Con la coperta Prima mi faccio La tisana Quindi tisana Mi lavo i denti Coperta Nel letto Video smr E buonanotte Semplice Doposcena Tisana E via Poi televisione Ecco mio maneto E basta Relax Con i video smr Per dormire Se no A volte dormo Anche senza cellulare E senza guardare i video Però Mi piace molto spesso Ultimamente Guardare i video smr Per rilassarmi E per dormire Qual è il trigger Che preferisci fare Faglio L'ho già fatto Il tapping Mi piace tanto A voi piace anche Guardate che bello smalto La chicco Però dura tre giorni E poi si specca La luna ragatta Bellissima canzone Una bellissima canzone Questo è Luca Ok Se non lo conoscete Ve lo faccio vedere Ve l'ho fatto vedere Quanto tempo impieghi Per realizzare un video Allora Dipende Se è un video smr Lungo Come questo Ci metterò almeno Mezz'ora A caricarlo Anche un'ora Scusate Ci metterò almeno un'ora Più lungo è il video Più dura Il video E più ci metto Tempo a caricarlo La voce che se ne va Però mi piace tanto Fare i video Spero che A voi piacciono così lunghi Anche se magari Questo lo dividerò in due Perché verrà di 40 minuti Ed è Un tempo troppo lungo Ci metto veramente 6 ore a caricarlo E non va bene Comunque di solito Ci metto poco Perché i video Li faccio abbastanza brevi Ma se faccio video lunghi È ovvio che a caricarli A montarli Ci metto tanto Mezz'ora Un'ora Quanto tempo Ok ci ho detto Hai mai avuto formicoli Grazie ai tuoi video No Io non riesco a rilassarmi Con i miei video Non riesco Non ce la faccio Guardi i tuoi video Sì Prima di caricarli Sei tutto a posto Dopo non li guardo Perché non mi piaccio Sono strano Quale software Usi per editare I video Ai movie Adesso non funziona più Quindi Non li monto I video Ultimamente Da qualche mese A questa parte Non li monto più Fino a Marzo Aprile Li montavo No aprile Prima di aprile A metà aprile Ha smesso di funzionare Ai movie E quindi mi sa che dovrò usare Altri programmi Final Cut Qualcosa eccetera Aiuto La tecnologia Non fa per me In quale momento Della giornata Registri Quando c'è il sole In teoria Quando ho tempo Dovrei anche dire E soprattutto Quando Non ci sono insetti Dovrei Registrare di notte Perché non ci sono rumori Non ci sono macchine Non c'è nessuno Ma registro quando posso Non è che Di notte alle 2 Posso fare i video Già non è che dormo molto Sinceramente Ancora faccio i video Alle 3 di notte Non va bene Poi sveglio tutti Non va bene Ti faccio casino A mettere il cavalletto La videocamera Il computer Che fa il fruscio Non va bene Faccio una seconda parte Di questo video ragazzi Perché è troppo lungo A dopo